Ricorre oggi il 185esimo anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri. I bersaglieri di ieri hanno scritto pagine epiche attraversando la storia d'Italia, da risorgimento alla Costituzione della Repubblica, fino ad arrivare alle oderne operazioni di stabilizzazione che hanno fatto conoscere la professionalità del nostro esercito al di fuori dei nostri confini. Con slancio e passione continuiamo in patria ad operare a favore della collettività nazionale. Noi, bersaglieri di la marmora, ci sentiamo sempre fieri custodi delle tradizioni secolari di cui curiamo gelosamente i valori che testimoniano agilità di pensiero, rapidità e coraggio e ci hanno permesso di essere imitati forse e guagliati mai. Auguri, fanti più amati!